Buonanotte Amici e amiche, carissimi, buonasera, buonanotte e ben ritrovati a voi tutti. Stasera ci raccontiamo la storia di come andò il duello tra Paride e Menelao. Achille, il re dei Mirmidoni, si era ritirato dalla guerra e passava le giornate nella tenda, triste e solo. Pensando all'offesa ricevuta, oppure stava in compagnia di Patroclo, suo cugino e amico carissimo. I due soldati, sulla riva del mare, si divertivano a lanciar frecce e a giocare al disco. I cavalli pascolavano tranquillamente nella pianura erbosa e i carri dei capitani restavano fermi presso le tende senza che alcuno li adoperasse. Non si pensava a combattere nel campo di Achille, ma gli altri guerrieri si preparavano per la battaglia e ogni capitano armato di tutto punto passava in rivista i soldati. I due eserciti furono presto pronti e in ordine. I troiani facevano uno strepido assordante, con urla e grida selvagge, ma gli Achei stavano invece silenziosi, attenti ai compagni dei loro generali. Ed ecco che un guerriero avanzò fra i troiani. Era bellissimo, con una pelle di leopardo gettata sulle spalle, con l'arco e con la spada al fianco. Nell'una e nell'altra mano teneva una lancia. Aveva la testa alta, lo sguardo fiero e gridava «Avanti dunque, venite a combattere! Chi ha coraggio si faccia avanti! Io sono il principe Paride, io vi ho rubato Elena, venite a punirmi se potete!» Così gridava il rapitore di Elena, sfidando i nemici. E alle sue parole il re di Spartac, se ne stava in piedi sul carro tirato da magnifici cavalli, si precipitò a terra e corse fra le file dei soldati verso Paride. Pareva un leone che si trovi finalmente davanti la preda tanto desiderata. E quando Paride se lo vide venire incontro, terribile di odio e di furore, fu preso da uno spavento invincibile e impallì tutto e fuggì indietro fra i soldati, proprio come una pecora che abbia visto un lupo affamato e feroce. Così correva a mettersi in salvo il principe Paride, dimenticando le fiere parole dette poc'anzi, e in più non pensando che la sua fuga era una grande vergogna per tutti i troiani. Lo vide Ettore, il suo fratello maggiore, e gli corse incontro indignato, fermandolo. Miserabile Paride! Bello come un dio, ma pauroso come una lepre! Come rideranno di te i nostri nemici? Diranno fra loro, quello è il figlio di Priamo, Coraggiosissimo, quando si tratta di parlare o di rubar donne, ma pronto a scappare davanti all'armatura di un guerriero, come un topo davanti a un gatto. Ti avranno ammirato, certo, quando poco fa ti avanzavi e parevi pronto a combattere solo contro tutti. Ti avranno ammirato, ma adesso anche l'ultimo dei soldati, sa che tu sei un vile, perché se hai avuto il coraggio di rubare Elena, non hai anche quello di affrontarmene lao. Ah, se i troiani non fossero troppo buoni, ti avrebbero già ucciso a furia di pietre, tanto è grande il male che tu hai fatto loro. Alle parole del fratello Paride diventò rosso per la vergogna e disse, non rimproverarmi Ettore, afroditemi, diede Elena, e nessuno certo rifiuta mai il regalo di una dea, ma guarda, io non fuggo più e sono pronto a misurarmi anche subito con Menelao. Da una parte nel campo stiano i troiani e dall'altra gli Achei e nel mezzo ci batteremo io e Menelao e nessuno ci deve aiutare. Quello che di noi due vince avrà diritto a Elena e alle sue ricchezze e la guerra sarà finita. Così disse il principe Paride e il principe Ettore corse alla testa dei soldati e prese la sua lancia a mezzo di bastone alzandola in alto. A quel segno i troiani si fermarono e a quel segno il re Agamennone gridò Attenti, o soldati! Ettore, figlio di Priamo, ha qualcosa da dire. Achei, troiani, disse Ettore con voce forte, fermo tra i due eserciti silenziosi, io vi faccio una proposta e chi mi manda è Paride, marito di Elena. Paride si dichiara pronto a combattere col re di Sparta, egli vuol combattere solo con Menelao, solo, e il vincitore avrà Elena e le sue ricchezze. Dopo il duello la guerra sarà finita. Voi metterete in mare le navi per tornare alle vostre case, nessuno toccherà più lancia o spada, e troiani ed elleni torneranno amici. accettate? Mi fermo qui, perché la seconda parte è ancora abbastanza lunga e ce n'è davvero da dire. Chi ha già studiato i poemi epici conosce l'evoluzione di questa storia e saprà certo come andò a finire il duello tra Paride e Menelao. Quindi potete ben immaginare, anche da quello che ho detto, quale sarà la risposta dei troiani e degli elleni, anzi, degli elleni, dei greci, a questa proposta di Ettore. Amici e amiche carissimi, vedete la bocca, c'è un detto napoletano, un adagio napoletano che recita molto bene, la bocca è uno bello strumento, la bocca è uno strumento meraviglioso, di facile uso, è facile parlare fino a diventare spavaldi, spacconi. Ma se prima di parlare non ne valutiamo le conseguenze, certamente ci troviamo nei guai, o almeno facciamo una figura magra, vergognosa, come proprio è accaduto al presuntuoso, orgoglioso, spavaldo Paride. Ecco, parliamo con coniezione di causa e con coerenza. Gesù stesso ci invita ad essere persone semplici, a parlare con semplicità. e il vostro parlare sia sì sì e non no, dice Gesù. E allora, impariamo da Lui ad essere persone essenziali e soprattutto coerenti e rispettose degli altri. Invochiamo anche stasera amici e amiche carissimi la benedizione di Dio perché ci ricopra, ci accompagni sempre e auguriamoci di cuore buonanotte. Grazie per la visione Grazie per la visione